Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove si registra un chilometro di coda tra l'Astra Segna e Ginestra Fiorentina a causa di lavori in direzione Livorno e rallentamenti in direzione Firenze. Rallentamenti anche in A1 ma a causa del traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sempre in A1 si ricorda che a causa di lavori fino alle 18 di domani 25 marzo rimarranno chiusi i tratti tra Aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna e Trappian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Uno sguardo ai cantieri della città di Firenze per lavori di asfaltatura fino a domenica 28 marzo la rotatoria in piazza Goldoni rimarrà chiusa nel tratto tra Via del Moro e Via dei Fossi. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!